Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sì sì, io oggi sta con le 15. Cioè in realtà non me ne frega un cazzo perché sto facendo Brawl, quindi... 10.519 coppie. Basta salire Nettuno. Eh, in realtà non sto proprio giocando. 14.532. Buono. Andiamo a fare un po' di casino Nettuno. Hai già fatto 190 comp con Jesse. No, aspetta, non è Jesse. Questa qua è? Come si chiama? Non lo so. Porca Diozzo! Cristo! Porca miseria, incazzatissimi! Cazzo! Sì, so perché non mi stai aiutando però GG. Eh vabbè vattene allora scappa cosa vuoi che ti dico. Non fatti fottere da... non fatti fottere da griff, eh. Buono, top 2. Ha quitado! Perché? Sì! Per evitare di bestemmiare. E che c'entra? Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai Nettuno. Voglio, voglio, voglio aspettare un minuto e venti per... Vaffanculo Nettuno ammazza sto coglione! No, no, sto per morire. Nettuno non può morire. Scappi e non faccia nulla. Cristo! Facciamo cagare. Allora, torniamo a fare le nostre cose. Comunque Gino Vincolo fa veramente cagare. Gino Vincolo è ridicolo. Allora, stavo dicendo... Gino, per favore. Per favore Gino. Eh. Ok. Allora. Andiamo. Ma che strana cosa è il fatto che non può usare i monitori. Che cosa? Che strana cosa è un po' sarei i monitori. Perché loro dicono che non hai l'esperienza di gioco per cui è stato sviluppato il gioco, no? Ed effettivamente hanno ragione. Giocare con le dita è tutto un altro pianeta. Oh, questa è la FK! Sì, ma... La Mice, la Mice! Si! Ah no, top 2! Ha quitato! Perchè? Sì! Per evitare di bestemmiare? Sì! E che c'entra il hit! All'ultima mette in bersaglio e si fa più danno su quel... Ok. povera nita però su aspetta il bull peccato per l'ulti bruciato eccolo ripusciami figlio di puttana usciami merda vieni qua pezzi da figa bottana è qua morto sono morto sono morto dai nettuno dai mamma mia vatti a far dieci minuti caro ma rotto il cazzo come al solito i dieci minuti caro ma c'è allora domanda che se l'ha qualcuno non ti sento non ti sento c'è un alert aspetta un attimo ti sento vince a sottolineatura ciao ragazzo bravissimo chiudere brucia tutta la ulti cazzo c'è l'orso ecco qua mi ha stonato vuole l'orso orsa percorso abbiamo preso due la ringrazio molto molto gentile mentre invece la data di consegna del veicolo non la sa ancora mi hanno detto tra metà settimana quindi immagino tra domani e venerdì suppongo no ma non è non è un problema mi ha già scritto ieri quindi aspetto che mi fa che mi fa sapere lui magari gli aveva dato degli aggiornamenti clare nel bundle masamume qua ci sono tutte le cose come sempre il castello dell'ego pass battaglia starter pack gli strumenti musicali lady gaga le tracce gem ce ne sono tantissime ragazzi di canzoni per fortuna come vi dico sempre essendo partner epic games mi danno direttamente ragazzi rank 26 byron minchia devi veramente sapere quello che fai esattamente cosa è successo no 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 non ho ben capito quello che è successo siamo morti tutti e tre siamo morti tutti e tre vince il battaglio raffa gemme o sopravvivenza solo fammi provare la ulti di col cazzo questo è fatto una tripla gg fatemi provare a fare delle top in solo non sarà possibile forse o ragazzi quanti edgar ci sono dai vattene però non farti l'uno di uno c'è la ultima e sei morto normale benedirò i signori in ogni tempo benedirò il signore e quando andrò anche io urlo forte porco hai visto che pizza e just si sono splittati minchia adesso che me l'hai detto veramente mi ritrovo scioccato in una maniera quasi da lasciarmi senza parole andiamo diciamo che ho lo stesso identico shock di quando mi sono reso conto che la findus è riuscita ad abbassare il tempo di scongelamento dei sofficini da 8 a 6 minuti mi ha lasciato scioccato anche quello al pari di questa andiamo il caro se basta no lo farei io ma sto facendo una partita non voglio più sapere niente non voglio più sapere ritorna non ritorna richieste di sban non mi dire più non mi parlare più di carus l'ho pushato l'ho salvato merda il face palm subito e a questo oppure questo il face palm non me lo ricordo e questo qua è per manazza per le copertine raga non abbiamo tempo di mandare fotografie durante la giornata a posto abbiamo il face palm easy abbiamo il face palm easy non ho tempo ragazzi di mandare si salvi anche l'altro così salvi tutto salvi tutto ma grazie a lei manazza grazie a lei salvi tutto allora sciato lei mi sto lisciando pesantemente a a voi cinque subito nella mia cambusa a rimettere in ordine il porcaio che abbiamo lasciato ieri sera io e i miei marinai lei invece venga che le faccio vedere il timone l'ho detto anche alla mia ex l'altro giorno ahahahahah vai vai continua bussia la coglione ma sei un idiota di merda sta scarsa in culo minchia non ho mai visto nessuno giocare così male colt non ho mai visto nessuno giocare così male colt non ti sto ascoltando ho fame eh minchia mi ha portato i mirtilletti ma so che mi fa passare gli olio e peperoncino ahia ora sei me l'ha chiesto pure me e hai detto di no nooo perché ha bestemmiato eh hamburger e hamburger e patate hamburger e patate è buono eh si lo so che previsce la pasta lo so no no beh hamburger e patate è buono cazzo cavolo si ma io non capisco perché non riesco a vedere le mie le mie le mie